Grazie Presidente, siamo divenuti a una convergenza. Se la Presidenza è d'accordo, do lettura dell'impegno al Governo su quale tutti quanti abbiamo dato parere favorevole. Nel punto 1 ci impegniamo a difendere con la massima determinazione il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU e nelle sue agenzie come OMS e FAO e nell'ambito dell'Unione Europea. Nel punto 2 ci impegniamo ad attivarsi con tutti gli strumenti a disposizione nella trattativa in corso in sede a ONU per contrastare l'ulteriore diffusione dell'etichettatura a semafero sui prodotti alimentari al fine di promuovere invece l'utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e indichino l'origine dei principali ingredienti utilizzati. Nel punto 3 ci impegniamo a porre in essere e continuare a svolgere una pronta e decisa azione diplomatica sul piano internazionale volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa Global Health in discussione all'Assemblea dell'ONU al fine di scongiurare le inigue conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il segretore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane. A diviare al punto 4 un confronto nelle opportune serie al fine di chiarire quali siano le finalità che hanno portato la Francia e i sette Paesi proponenti a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi extraeuropei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei. Nella Francia nonostante sia un Paese che in maniera del tutto analoga all'Italia vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione Europea, potrebbe questa danneggiare tali prodotti e ove questo documento venisse approvato senza modifiche si espone essa stessa ad essere pesantemente penalizzata. Quinto e ultimo punto, promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia dove siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana. Grazie Presidente.